Era il 9 aprile 2006 quando i cadaveri di due fratelli calabresi vennero ritrovati in un bosco nell'Arettino a Terra Nova Bracciolini. Angelo ed Ettore Talarico, 42 e 35 anni, originari della provincia di Catanzaro, furono uccisi a colpi di pistola e sepolti nella buca dove poi vennero ritrovati ricoperti da calce. Un delitto che destò subito importanti sospetti di un collegamento con l'Andrangheta ma che non trovò riscontro nell'immediato. A 16 anni di distanza 10 i calabresi sono stati indagati dalla direzione distrettuale antimafia di Firenze per omicidio in concorso e associazione mafiosa. La storia delle due vittime inizia proprio in Valdarno a San Giovanni dove si erano trasferiti e lavoravano come muratori. Secondo gli investigatori sarebbero rimasti vittime di una faida di mafia tra famiglie calabresi, la cosca dei Bubbo contro quella dei Carpino. Il delitto all'epoca dei fatti scosse molto l'opinione pubblica tanto che intervenne anche il vescovo di allora, oggi presidente della CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti. Chissà parli, aveva detto l'alto prelato, che qualcuno lo abbia ascoltato a distanza di 16 anni? Troppo presto per trarre le conclusioni. I dieci indagati saranno sottoposti alla comparazione del DNA con quello dei reperti del 2006 ai parenti delle vittime in incidente probatorio il prossimo 8 marzo, disposto dal GIP distrittuale antimafia Pier Giorgio Ponticelli.